Conferiamo la labbra concentrale, onore scala, gestione delle politiche e dei servizi sociali a Daniela Ragione, congratulazioni. Parlare qui di fronte a questa prestigiosissima università di fronte a tutto il corpo docente, con tal magnifico lettore. Io sono un povero cantante di provincia, non sono abituato a queste cose. Quindi ho accettato e intendo questa laurea fondamentalmente come una testimonianza d'affetto, un attestato di stima per l'impegno che ho messo da sempre di portare in ogni angolo del mondo della nostra cultura, specialmente la cultura musicale, questo sì, ma tutto qui. Una laurea onoris causa di cui capisco, comprendo perfettamente l'onore, ma non comprendo la causa. Dell'ottocentesimo anno accademia dove resta le costruite in auto, fedeli musici. Grazie. 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 Grazie.